Non ti conosco chi sei e allora non fare di merda qua, falla educatamente, fatelo giocatamente, qua siamo stati pintonati dal primo momento che siamo arrivati qua. Qua noi siamo utilizzati a fare un banchetto, tutti possono fare ciò che vogliono. Ma scusate, oh, ma non è interessa, sto a fare la buona giornata di classe.